Questa sarà un'intervista doppia di coppia. Siete pronti? Scaldate gli indici, perché risponderete solo con quelli. Ok, al massimo i pollici. Iniziamo! Chi è il tuo partner? Chi dei due ci ha provato con chi? Chi dà ragione all'altro anche quando ha torto? Chi di voi due ha scelto il partner più figo? E quello più intelligente? Elencheremo una serie di caratteristiche. A chi di voi due appartengono di più. Coraggio. Affidabilità. Pazienza. Gentilezza. Pigrizia. Puntualità. E ora via libera anche i muscoli del viso. Mostraci che faccia fai quando l'altro scopre una tua bugia. Vuoi chiedere scusa? Vuoi fare sesso? Le ultime domande. Chi dice più bugie. Oggi ne hai dette? Bene, l'intervista è finita. Salutatevi e ditevi ti amo con le mani.